Si torna in campo tra la domenica e il lunedì nel girone C di Serie C, effetti del turno infrasettimanale appena lasciato alle spalle e per Pugliesi e Lucane il lungo weekend di campionato all'orizzonte, il 31esimo, non si direbbe affatto banale, punti che iniziano a pesare e palloni che tendono a scottare, componenti che si ritrovano in Cerignola, Monopoli, derby in agenda domenica sera alle 20.45 al Monterisi. Per entrambe nell'ultima giornata della competizione sono stati decisivi i minuti finali, all'audace hanno assicurato grazie alla prodezza di Visentini il pareggio sul campo della Casertana, settima partita di fila però senza vittorie, al Monopoli hanno tolto tre punti che sembravano in tasca nel derby contro il Brindisi con gli ospiti capaci di passare dal 2-0 al 2-2 tra il novantesimo e il novantaquattresimo. La squadra di Tisci, oggi decima con il Sorrento, vuole una vittoria per rientrare a pieno in zona playoff, quella di Taurino, vuole spezzare un digiuno dai tre punti che perdura da nove partite per abbandonare il terzo ultimo posto, piano condiviso con la Virtus Francavilla, formazione vogliosa di riscattare il KO nel derby di Taranto, l'ostacolo all'orizzonte e però di quelli che spaventano. Alle 20.45 di domenica, Artistico e compagni ospiteranno un Avellino in salute, tornato al successo con il Roboante 5-2 sul Catania e ora terzo in solitaria con 53 punti. In ordine cronologico, la prima squadra a scendere in campo sarà però il Brindisi, partito nella gestione all'Osacco dal punto di Monopoli. Il penultimo posto, occupato dal Monterosi, è però a meno 6 e la sfida casalinga al Giuliano a tutti i contorni dell'ultima spiaggia per vantaggiato e compagni, fischio d'inizio alle 14. Riscatto è la parola chiave di un potenza sconfitto al Viviani dal Benevento, distante quattro punti dai play-off e impegnato alle 16.15 di domenica nella trasferta di Catania. Di fronte a un avversario che ha esonerato Cristiano Lucarelli, segue i rosso-blu Lucani di un punto ed è stato capace di vincere una sola volta nelle ultime nove uscite di campionato. Testa poi a lunedì sera, con due formazioni accomunate dalla volontà di cancellare gli scorsi giorni. Il Taranto, colpito in classifica dalla penalità di quattro punti che lo ha spedito al quinto posto, farà visita a una vestabia quasi inarrestabile. Si gioca in un menti a porte chiuse e Capuano sogna lo scherzetto da ex in una piazza in cui ha allenato dal 2006 al 2008. Dimenticare un filotto di cinque partite senza vittorie è la priorità del Picerno, quarto in classifica, e atteso dal match casalingo al Curcio contro il Monterosi, in entrambi i casi start alle 20.45.